Clauto, nei giorni scorsi un post su Facebook molto polemico vista la scossa di terremoto non eccessiva rispetto a molte altre situazioni dove le case invece restano in piedi. Sì, ho detto quello che noi verdi diciamo da anni, cioè che nei paesi seri dove si investe nella difesa del territorio, sulla tutela del territorio, un terremoto con 6 gradi e fa il solletico. In Giappone, in Germania, in altri paesi seri la gente avrebbe preso un po' di paura e poi dopo ci sarebbe stato qualche graffio. Purtroppo il problema è sempre quello, investire sul territorio significa investire però non poter rubare, questo è il problema. La gente, alcuni costruttori vogliono rubare, vogliono farsi gli affari possibilmente senza dover pagare per quegli errori che fanno, il problema è sempre quello.